ciao a tutti come vi ho preannunciato vi faccio questa recensione su questo nuovo pennello prodotto da borciani bonazzi la serie unico 850 un pennello praticamente innovativo sia nel suo manico sia per come si comporta a contatto con con l'acqua e in questo nuovo filato chiamato idro che assorbe veramente tanta acqua con un rilascio graduale omogeneo sia per tutto il suo tratto pittorico su carta o su qualsiasi altro supporto adatto per l'acquerello in quanto la tecnica dell'acquerello può essere applicata sia su supporti cartacei ma anche su legno metallo vetro basta semplicemente usare un grano di fondo che permetta poi la lavorazione del colore d'acqua querello durante l'esecuzione del proprio lavoro la serie 850 è stata prodotta in sei numerazioni nel numero 0 2 4 6 8 e 10 nella classica forma bombasino vi ho fatto un piccolo schema dettagliato sia per quanto riguarda la lunghezza del filato dalla base sino alla punta sia per quanto riguarda il diametro di base e nella parte panciuta più panciuta del del pennello è un esempio un numero 0 a una lunghezza di filato di 2,5 cm 0,7 mm alla base di la di diametro 0,8 nella parte centrale questa oscillazione di spessore minima sia per quanto riguarda lo 0 ma anche per altri pennelli in quanto la sua forma una forma goccia ma tende ad essere molto più omogenea nella parte bassa è un pennello veramente interessante in modo particolare per questo suo manico in resina con questo queste scanalature in diagonale che vi permettono un'ottima impugnatura e risultano poi antiscivolo durante la lavorazione come la maggior parte di pennelli o tutti i pennelli della serie unico sono pennelli che hanno un'impugnatura ergonomica sia nella parte bassa sia nella parte alta questo comporta un ottimo bilanciamento durante la lavorazione ora oltre ad avere l'anti rolling nella parte bassa che sul piano di lavoro non ruota il pennello e rimane stabile altra particolarità di questo pennello e la chiusura del fil di ferro che è lateralmente e non nella parte retrostante questo comporta un durante la lavorazione non dà fastidio al dito durante se per caso si cerca di prendere il pennello nella parte più vicina al filato stesso a differenza anche di altri pennelli a bombasino vi prendo 1x avete una palla una cannuccia dove all'interno c'è della colla che molte volte la notate e del pennello il filato incollato sulla parte in legno in questo caso invece il pennello a una guaina in gomma termo riscaldata che tiene ben salda alla base tutto il filato contenente all'interno del pennello ora vediamo come si comporta nella lavorazione come si comporta a contatto con l'acquerello prendiamo blocco carta al 100 per cento cotone in questo caso uso un pennello numero 4 prendo un acquarello della core in questo caso sto usando il blu di prussia un po di colore allora durante alcuni test che ho fatto prima di video recensirlo vi dico un po quanto quanti ml di acqua riesce ad assorbire il pennello dai 4 ai 10 riesce ad assorbire fino a 4 5 ml di acqua in questo caso risulta un buon contenitore di acqua e ha un ottimo rilascio durante la lavorazione un rilascio che è costante e graduale senza avere un' eccessiva uscita d'acqua iniziale per terminare durante la lavorazione infatti ora vi bagno l'acquerello l'acquerello scusate il pennello ecco ora è completamente inzuppato di acqua come notate non gocciola minimamente infatti questo nuovo filato idro brevettato proprio da borcioni bonazzi a questa particolarità di trattenere moltissima acqua all'interno e notate ora lo stiamo scuotendo il rilascio è veramente basso ora lo usiamo con col colore ecco qui abbiamo sporcato il pennello notate come è la sua pennellata vi ripeto sto usando un numero 4 verità notate come il rilascio dell'acqua è veramente graduale sino alla fine riuscite notate anche vedete come non si notano minimamente gli eccessi di acqua durante la pennellata bagniamo di nuovo partiamo nuovamente di colore l'altra sua particolarità è che riuscite ad avere un tratto abbastanza largo quanto è il il pennello infatti se notate o quando lo sollevo lui ritorna in punta infatti riuscite sia a lavorare per tutta la sua larghezza sia se poi per caso avete bisogno di linee molto più sottili proprio perché la sua punta ben definita vi permette di lavorare anche con dettagli particolari basta soltanto aumentare la pressione della mano sul supporto pittorico avrete linee diverse di diversa larghezza ora notate lui resterà sempre in punta sia se lo lasciamo se facciamo pressione sia se rilasciamo nuovamente lo allontaniamo dal supporto pittorico insomma è un ottimo pennello mi piace veramente oltre ad essere bello esteticamente infatti mi piace chiamarlo elegantemente alfa come pennello proprio perché ha questo tratto molto mascolino però è molto elegante nella sua nella sua estetica oltre a questo è veramente interessante quanto quant'acqua riesce ad assorbire io l'ho bagnato soltanto un po neanche l'ho immerso tutto all'interno dell'acqua e riesco ancora a rilasciare colore malgrado si è scaricato il pennello infatti stando un po a alcune testi che ho fatto durante la prima della diretta prima della recensione immergendolo completamente all'interno dell'acqua sono riuscito a bagnare tutto un foglio di formato A3 usandolo come se fosse un pannello da stessura di bagnatura di carta prima della preparazione notate vedete un po riesce tranquillamente a gestire il tutto sia il tratto e sia la pennellata verite non mi lascia nessun nessun tratto maggiore della del colore perché ha proprio questo rilascio graduale dell'acqua dura sul supporto pittorico è un pannello che si trova già è presente su parecchi sì parecchi negozi è disponibile anche su intingoshop.it e nient'altro per qualsiasi qualsiasi altra informazione potete tranquillamente chiedermi senza problemi nei commenti grazie di tutto e buona serata chiedermi senza problemi grazie di tutto e buona serata